ciao bambini cosa fate? volete venire con i miei saloni? c'è una letra per voi guardate questa è una letra per voi e scrive ciao bambini questa è la caccia alle uova e non solo occhio alle prossime immagini perché vi svelleranno i nascondili dei tesori appena li avete riconosciuto correte a prenderli prima di andare a cercare i tesori dovete mettere i cercare? guardate che cercare avete? si è viena va bene siete veri con i vieti guardiamo a chi tocca prima? Denisa cos'è aspetta? l'hai trovato subito! tocca Ilaria Lialia lo stai dove questo posto? dov'è? fam vedere lì hai trovato Denisa bravissima brava andiamo avanti a chi tocca? Denisa cos'è? Denisa sai dov'è? iscriviti moni sui ahahi lascia nella tocca ilaria dove il 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 hai trovato Ilaria? è difficile trovare i tesori vero? no no ma il bimbo cosa fa? guarda cosa fa bimbo ecco l'ho trovato denisa dove? corri 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 trovato? chi è? Ilaria guarda guarda dove è il posto? trovato? bello tocca Ilaria ancora Ilaria dove è il posto? hai trovato? bello tocca a denisa dove è? come sei brava hai trovato subito ancora Denisa dove è il posto? apri ce la fai? vao Ilaria dove è questo posto? hai trovato Ilaria? denisa dove è questo posto? andiamo? Vieni, 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 vieni wow! che grande! wow! e io voglio quella! Ilaria! Ilaria sai dove è questo posto? sì! dove dove? fai vedere, fai vedere, fai vedere! wow! ce l'hai anche tu barbe, sei contenta adesso? tutte due, Ilaria e Denisa! wow! wow! che grande! è pesante! wow! ti amo aprire tutti questi duele? no! ti amo aprire? si! dai Lialia prima come ci tu vedi l'aria? no! dai Denisa tu con te dai bravo cos'è? anche tu ce l'hai in braceletta con la colana